Domenica 23 settembre il Parco Pertini di Arezzo ospiterà la quinta edizione di Tutti in Pista, Arezzo Abilia e Vivere lo Sport. Una manifestazione promossa dagli enti e le istituzioni locali che invita tutta la cittadinanza a partecipare, conoscere e destreggiarsi nei vari sport proposti. Un'attenzione particolare sarà dedicata ai diversamente abili, attraverso numerose iniziative di inclusione sportiva e di sostegno. L'inizio delle attività è previsto per le 9 e mezzo del mattino. Anche quest'anno siamo riusciti, io e il presidente dell'UISPE, a organizzare questo evento con grossissime difficoltà, perché quando si organizzano gli eventi il primo aspetto è quello economico. Quest'anno abbiamo sudato abbastanza, credo, per poter trovare le risorse per farlo. La risposta è quella che merita, cioè dire noi, sia come numero di presenze, sia come motivazioni date all'evento, credo che siano di particolare significato. E il mondo sportivo di base, quello del volontariato puro, risponde pienamente, questo è importante. Sport e diversamente abili, come coinvolgerli? Semplicemente nel farli stare insieme, farli fare sport insieme, socializzare. E quindi questo è un evento di inclusione sociale, ovviamente, attraverso lo sport. Lo sport poi si presta molto bene a questa finalità. I ragazzi che hanno delle difficoltà, ovviamente anche per una giornata, si sentono veramente allo stesso livello del normodotato.